Stacca alla San Donato il cartello dei 250 metri e si inserisce la seconda marcia a piegone a destra per Alberto che finisce leggermente largo Il mototrainer Alberto Nazca is training very well Casanova Di giù è la discesa Destra poi sinistra Attenzione qui ci sono le due arrabbiate E' veramente l'unica curva da portare con il gas Ecco qua Attenzione molto bene il punto di corda Si va su nella parte alta del tracciato Arrabbiata dove lo scollinamento E' una staccata nella scarperia Eccoci qua Si scarpea la nome marcia e si inserisce il moto Resto a sinistra Per il circuito più bello del moto ragazzi Il DJ Fantastico Poi di nuovo Breve accelerazione La staccata del correttaio Si va giù Oltre 180 gradi A destra In interdiscesa Bisogna uscire Bravo All'interno Per percorrere al meglio Vai Uno Due Gass Il lap time Del petto Attenzione Ultima curva La cucina Staccata E si va dentro A sinistra In discesa E' una piega infinita Appena si vede l'uscita Si riprende il gas in mano E via Tutte le marce Sul rattilineo Andiamo a vedere Ragazzi gira buono eh Gira buono Attenzione 1 49 Terzo Bravo Facciamo un grande applauso Buonissimo Bello